Buongiorno, io sono Sara, benvenuti nella mia cucina. Qua ho messo a bollire dell'acqua, prepariamo una bella insalata di pasta italiana con delle girandole della barella. Ecco qua abbiamo buttato la pasta, adesso in coperchio così facilita la bollitura e cuocere prima. Da quest'altra parte ho preparato un po' di formaggio, dei pomodorini, mettiamo anche un po' di olive e del basilico fresco. Ancora due minuti di cottura, poi la pasta è pronta, di qua sto preparando, come dicevo prima, delle olive nere, del formaggio. Tra poco metteremo anche del basilico, pomodorini, niente di più, un filo di olio. Ecco qua ha scolato la pasta, ho fatto andare giù dell'acqua fresca per bloccare la cottura e adesso andiamo a condire. Ed eccoci qua, abbiamo tirato tutto fuori, olive, basilico fresco, pomodorini, del formaggio, un po' di pepe, un po' di curcuma. Et voilà, un piatto fresco, leggero e veloce da fare. Tra poco impiattiamo. Et voilà, impiattato, tra poco si mangia. Buon appetito, un abbraccio da Sara, ciao al prossimo video. Buon appetito.